buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce buonasera a tutti buonasera a tutti da mister nichilista io in questa giornata uggiosa di fine estate in relax in questa piscina voglio dirvi che così non va il mondo così non va non si può andare avanti in questo modo troppe cazzate 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 mentalità sbagliate mentalità tossiche pochi minuti fa ho letto un commento mamma mia faceva riferimento ad una notizia un uomo un ragazzo non importa neanche l'età ha coltellato un tizio per strada perché ha guardato la sua tipa pensate che grave colpa pensate che soppruso cosa lei la mia ragazza e tu l'hai guardata io ti ha coltello problema però non è il gesto in sé certo che è un problema il gesto in sé ma anche quello che c'è dietro una cultura una cultura che ti insegna queste cose nessuno si può permettere di guardare la tua ragazza nessuno si permette di guardare il ragazzo addirittura tu cammini per la strada non puoi neanche girarti perché noti una ragazza che passa o non puoi girarti perché noti un ragazzo che passa e si chiama sta roba amore se tu ami non ti può cadere lo sguardo verso il corpo di una tu sei la mia fidanzata non ti può cadere lo sguardo su di uno che passa per una mancanza di rispetto cioè vedete conto che queste idiozie poi causano parlando della punta dell'iceberg anche gli accoltellamenti è chiaro che in quel momento in quel caso c'è il disagio e il delirio del soggetto quindi un individuo a sé che però è anche alimentato anche non solo alimentato da una cultura che porta a giustificarlo e mi stai mancando di rispetto in questo caso lui sta mancando di rispetto a me perché guarda è non tocca attenzione e già anche se toccasse a te non tiro fuori il coltello massimo fai capire che questa cosa non si fa e minacci di chiamare le autorità la polizia e carabinieri ma qui si parla di guardare ma ste robe qui secondo voi dove l'impara la gente ma l'impara ovunque l'impara in famiglia le famiglie che mediamente ti insegnano insegnano solo cazzate mamma mia mamma mia questi genitori medi che siano giovani meno giovani perché si tira tanto in ballo la modernità i genitori di oggi non sanno più educare come se i genitori di ieri invece mamma mia che capacità ma di cosa parliamo i genitori più giovani sono i figli dei genitori più anziani quindi se fossero tanto migliori non a loro volta non sarebbero così deliranti con i loro figli ma perché i genitori nella media si preoccupano se tu hai mangiato hai mangiato abbastanza hai messo hai messo hai messo il giubbotto hai fatto i compiti come sei andato all'interrogazione io a mio figlio o mia figlia non permetto di uscire dopo mezzanotte devo sapere tutti quelli che frequenta sto dicendo che sapere chi frequenta a 13 anni o quattro anni sia sbagliato ma il delirio è pensare che tu ti preoccupi dei compiti fissi gli orari e di qua e di là e questo sia sufficiente per essere un buon genitore la famiglia perfetta ma era una famiglia assoluta di persone per bene perché persone per bene perché entrambi genitori due gran lavoratori e questo non ti dice niente della famiglia i genitori possono essere due medici due avvocati due ingegneri due polizziotti cosa c'entra questo con il clima familiare che si respira ma nessuno che parla di sentimento di cura del cuore dell'altro di capacità di ascoltare di non giudicare ma questo dovrebbero fare i genitori questo dovrebbero fare tutte le persone in questo mondo però è chiaro che se si nasce in contesti familiari no in cui questo non c'è è difficile che poi a livello di relazioni in generale amicizie fidanzamenti i matrimoni poi si vada a diffondere l'amore se in primis è difficile trovarlo nei nuclei familiari di partenza mamma mia l'ascolto che non vuol dire capire per forza il figlio ma perlomeno provarci non esiste tu hai la tua mentalità e giudichi tuo figlio o tua figlia se lontano o non totalmente corrispondente alla tua visione della vita alle tue aspettative se è orgoglioso di tuo figlio se porta buoni voti a casa se già lavora se fa carriera e giudi feste e la festa per il diploma la festa della laurea la festa perché è stata mamma mia io so che ho conosciuto in passato persone parlo di dieci anni fa che per certo so che avevano dei figli un figlio senza voler essere giudicante comunque aveva dei comportamenti carogneschi questo figlio arrogante maleducato stronzo con altri parenti con le fidanzate quando le aveva con gli altri insomma delle grandi pecche caratteriali no proprio un'arroganza no una poca sensibilità poca dolcezza bene quando il figlio ha detto loro che aveva vinto un concorso che significava dal giorno dopo un posto di lavoro con stipendio assicurato a vita sì che bello festa è una bellissima giornata che cazzo di bene tuo figlio continua ad essere uno stronzo e te non te ne frega niente non ti chiedi neanche che cosa è sbagliato chiaramente sì quando il figlio ha 25 anni 30 forse è un po' tardi però questo fa capire il disagio più totale ma un genitore un genitore un genitore con la G maiuscola una persona con la B maiuscola ma dovrebbe essere contento di proprio figlio e dovrebbe dirsi ah ho fatto un buon lavoro se proprio figlio è gentile sincero amorevole non vuol dire un figlio perfetto perché neanche il genitore potrà mai essere perfetto un figlio che quando sbaglia però si rende conto ragiona si mette in discussione un figlio che è aperto di che cosa volete di più da un figlio gentile educato aperto di mente amorevole questo e tutti dovrebbero ambire a questa cosa che essere così ma perché la maggior parte non ambiscono a questa cosa qui perché dicono no ma questo non è inutile non basta io voglio fare carriera no anzi ma chi se ne frega anzi è meglio essere stronzi perché in primisi i genitori se ne fregano se tu sei gentile buon amorevole sono i primi a volere che tu abbia porta porti a casa da portare a casa dei risultati materiali sono i primi genitori ad essere stronzi ecco il mio genitore è stronzo mi ha insegnato tutta la vita ad essere stronzo ma non tanto perché mi ha detto devi essere stronzo perché lui lo è poi per fortuna esistono delle nella minoranza dei casi ahimè però esistono delle situazioni in cui uno diventa l'opposto del genitore il genitore diventa importante nella sua stronzaggine semplifico perché diventa tutto quello che io non devo essere io vi esorto anche a fare questo nelle situazioni negativi c'è quella di essere io devo fare l'opposto devo fare molto diversamente rispetto a quello a cui sono stato abituato però nel maggior paio dei casi è impossibile fare questo è umano è normale e si portano avanti tutte le robe aberranti che si sono viste ogni giorno potrei fare un video di 10 ore per tutte le cazzate dalla visione di un fidanzamento cosa deve essere un ragazzo cosa deve essere una ragazza cosa devi sognare nella vita ma uno deve essere orgoglioso di essere proprio figlio di sogno nella vita voglio essere una persona molto buona e gentile invece no eh no non sei ambizioso nella vita devi sognare di rimanere nella storia nulla di male se qualcuno rimane nella storia per carità per un qualcosa di bello eh tu puoi rimanere nella storia anche perché hai buttato giù il colosseo però in quel caso tu non è che ricercavi il rimanere nella storia hai vissuto facendo quello che sentivi tuo come effetto collaterale è accaduto che sei rimasto nella storia ma è tutta roba fumosa inutile voglio diventare famoso voglio diventare ricco voglio e c'è una cosa fondamentale che molti non hanno capito perché in primis nessuno ve lo dice a partire dalle famiglie ma a partire anche dalla scuola nessuno nessuno parla di questo nessuna istituzione niente si interessa di ciò quello che conta nella vita è dentro di sé intraprendere un viaggio il viaggio interiore che ti permette sempre di più di capirti di capire l'esterno di mettere appunto in discussione di saper leggere perché tu sei in un modo guarire eventuali eventuali difetti piccoli o grandi che siano partendo però dall'accettazione capire perché ci sono non perché esistono i mostri perché esistono le persone sbagliate perché tutto ha una causa capire il perché in un momento magari avere anche rabbia saper perdonare perdonarsi e perdonare e sapersi evolvere cioè nella vita nessuno vi dice che la cosa che più conta è ragionare ma ragionare compiutamente in senso profondo in senso costruttivo uno può pensare tutto il tempo ma imparare 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 a comprendersi anche imparando dalla vita ma è tutto è saper leggere guardare a fondo se tu non impari a far questo vivi vivi esperienze situazioni non impari mai niente ma nessuno vi dice questo è fondamentale perché c'è da stupirsi in un mondo in cui i genitori che dovrebbero essere le figure più importanti i maestri si preoccupano soltanto della che ti metta la giacca perché fuori piove l'ombrellino abbia fatto i compiti mi raccomando mi raccomando o studio i lavori l'anno sabbatico no se io ho letto delle robe avverranti sono deluso sto male perché mio figlio mia figlia si è appena diplomata e ha detto che vuole un anno sabbatico prima dell'università non è giusto non è giusto perché per me è un anno perso è un anno buttato via l'anno buttato via ma tu non ti devi preoccupare che tuo figlio butti via un anno tu ti devi preoccupare che tuo figlio sia felice cazzo felice felice e non è che l'anno sabbatico basta per essere felice ma tu credi che la felicità sia legata a avere il posto di lavoro e il curriculum non esiste altro e poi giudizi poi io non capisco non capisco veramente non capisco il lavoro nobile dall'uomo sveglia 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 cambiamolo questo mondo vivendo soprattutto diversamente portando avanti qualcosa di diverso è facile vivere in un mondo con la mentalità del insomma che non voglio neanche continuare a descrivere no ma si può vivere lo stesso essendo ciò che si vorrebbe nel mondo il mondo non ti piace si tu quel mondo che vorresti questo è ciò che conta questo è ciò che conta grazie